Ma che cazzo succede? Sono le otto! Non sono scritto io a fare una scritta sulla scritta Non parlo della scritta! Subito in presidenza! Sto rivivendo sempre lo stesso giorno Oggi è il 15 marzo Anche ieri lo era Anche il giorno prima Io dobbiamo andare a zappare Un altro giorno L'assimo sta No! Oh! Chico! Chico! Lasciami sta Allora non mi vuoi dire cosa hai fatto? Vedeva dei giganti nei mulini a vento E fa che cosa sei buona In che senso? In che senso? In che senso? L'afficido? In che senso? In che senso? Vedeva dei figli Grazie a tutti.